c'era una volta una scatola che piangeva in un supermercato Lidl era tutta sola sullo scaffale era vuota aveva degli scomparti enormi era robusta ed era molto colorata piangeva perché sapeva qual era la sua fine ma passò di lì una signora che faceva la spesa musica 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 Grazie a tutti. 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 La signora si fermò, girò il suo sguardo verso quella scatola, la notò, sentì che piangeva e decise immediatamente di adottarla. Così la portò con sé a casa, la mise in un cassetto del suo armadio e la scatola per ringraziare la signora continuava a tenere sempre in ordine i suoi accessori. E visselo tutti felici e contenti.